E che allora? Oggi progetti opinioni la Gerretto Platico Italiano e l'Italia la cittadina Ero 90.3 per il prezzo di Miliano il gruppo di Codoni Morco Molino di Natica Europea e il Sibre Morco Vintano per tutti da una vallata l'Oro Sport San Piovese e l'Azionità Civitica la QS Per voi dopo 10 i 10 i 10 i 10 attenzione atleti 10 i 10 per voi mani a cura con i 10 e lo proti si riferentigano maggiore per chiedere di più via mi auguro prego allora Massimino arriva per dare il via iniziale la pagata di 60 agli presenti del primo anno ancora con le attenzione 3 2 1 il primo anno per la pagata di 50 che si riferentano per la pagata di 60 aiutare e l'ultimo per usare il primo anno con 41 selettite nel percorso. Attenzione, attenzione, siamo a meno 8. al comando 2 a 10 vai Miki allora al comando meno 7 per i 2 uomini al comando 2 uomini al comando meno 7 sempre al comando questo presente numero 90 Matteo Brunca del suddizio di Vigiorno Lugata e del numero 76 di Vigiorno Lugano Michele Chiusi dalla Sony cambia cambia la situazione intensa bellissimo per i 2 uomini al comando e aggiunto anche il numero 66 67 vado leve nel forno momento di restituzione spettacolo veramente questa sera vieni i consigli nel cuore dell'altro soddisfazione è la parte nostra che abbiamo organizzato abbiamo oltre 200 corridori nel cuore della città ma dobbiamo ancora dire grazie alla polizia principale al subito di Vottenore ma soprattutto al primo cittadino il nostro avanti sindaco Claudio Petrosi 3 uomini al comando 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 grazie anche a 2 uomini che hanno operato per affrontare l'arrivo sotto un ruolo i pali il palco e quant'altro quindi grazie a tutti ci riferiamo 3 uomini al comando 2 uomini al comando 3 uomini al comando 3 uomo Salman con la Tuttner 1 uomini 2 uomini al comando Non è un było uomo classe 2 uomini al comando 3 uomini al comando 1 uomini al comando un sorte in kochini al comando Scusi, è curioso. 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 Scusi, è curioso.